È un festival multiculturale e multidisciplinare perché non si parla solo di musica ma anche di fumetto, di arte in generale, di socialità, socializzazione in un quartiere della città periferico, molto spesso mal descritto. Torna per il terzo anno consecutivo il Malpighi Festival dove i giovani sono i veri protagonisti. Tre giornate al parco di Via Malpighi da venerdì 21 a domenica 23 luglio all'insegna della musica, del divertimento e della formazione nell'ambito dello spettacolo. L'organizzazione di tutto il festival e quindi tutti i reparti che andranno a lavorare all'interno del festival è curata dai ragazzi che hanno frequentato il corso di event management, nato proprio per andare ad organizzare il festival in sé. Allo stesso tempo la formazione si amplia, oltre event management c'è anche il corso di fumetto, videomaking, teatro e fotografia e tutti questi diventeranno con la loro mansione gli attori stessi del festival. L'ingresso alla tre giorni è sempre gratuito sia ai concerti che ai corsi. Iniziamo da venerdì 21 dove dalle 18 partiamo con un talk con professionisti del mondo dello spettacolo e poi avremo live in ordine di Giovanni Toscano, Bianco e poi Dente. Il sabato mattina iniziamo con le mattine di musica classica, pomeriggio continuiamo prima con il talk, poi con la musica dove avremo il maestro, gli Endlogic e poi Clavergold. Tutto questo sempre accompagnato sin dalla mattina dallo stand gastronomico di Tartufix. La domenica è la giornata di chiusura, ricominciamo dalla mattina con i mattine di musica classica dove avremo un quartetto di sassofoni, sempre in collaborazione con Oida. Pomeriggio di nuovo talk, di nuovo poi una piccola parentesi musicale durante l'orario aperitivo dove ci sarà Brina. Poi chiuderemo la serata con lo spettacolo del corso di teatro che si svolgerà nell'arco di tutta la durata del festival insieme al corso di fumetto, il corso di videomaking e il corso di fotografia.